Ottavo Memorial Van den Eind Il 10 aprile 2016 all'Oreo, Rovigo, avrà luogo l'ottava edizione del Memorial Van den Eind. Il prestigioso evento sponsorizzato da Tubertini celebra il ricordo del grande campione belga, le sue vittorie, le sue famose pasture e la grande amicizia che lo legava a Gabriele Tubertini e alla sua famiglia. Saranno presenti ospiti internazionali e i più grandi campioni della pesca al colpo. Ottavo Memorial Van den Eind